L'eclissi? Ma io non sono pronta! No, 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 no! D'accordo, la luce sta ancora alimentando l'Ellestar, ma... Torre, cosa diceva la profezia esattamente? Grazie, Torre. Il ritorno delle tenebre. L'arrivo dei guardiani. Ah, in un giorno senza giorno, la luce non avrà più luce. Bene, vogliamo entrare o vogliamo entrare? Forte! È una mia impressione o è più grande all'interno dell'esterno? Non mi fido. Zod! Voi chi siete? Perché siete venuti? Torre, buttali fuori da qui! Perché mai dovremmo ascoltarti? Perché io sono Aoki, la custode della conoscenza. perché è qui? Inspira, espira, senti la pace della foresta, senti la luce. Inspira, espira, senti la pace della scuola. Ed è un flat oFC. 哥 Dormiti